segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te questa che ha secondo me una caratteristica primaria l'incompetenza poi sono in gran parte degli ignoranti poi sono in gran parte delle persone che non capiscono neanche quello che dicono quella figurina del nostro primo ministro quando esce da una riunione a bruxelles dice che è soddisfatta è una roba talmente autolesionista vuol dire che basta di niente che lei è soddisfatta allora questo dimostra demenza io uso la parola demenza grazie